La pagina economica adesso è stato un lunedì difficile per le principali borse europee ed anche mondiali. Non ho fatto eccezione neanche quella New Yorkese di Wall Street, scommessa per un intervento di emergenza della Federal Reserve sui tassi di fronte alle turbulenze e ai timori di una recessione statunitense. I trader erano arrivati al 60% con la probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed americana di 25 punti base, una decisione che dovrebbe arrivare nella notte tra lunedì e martedì. Dunque nessuna era in segno positivo nella giornata di lunedì né tanto meno Milano che ha chiuso con un più 3,77%.